Qui abbiamo il palcoscenico dove arriveranno ovviamente i gruppi di musica polifonica albanese anche altri, ci sarà un interscambio di gruppi di musica folk e polifonica albanese che vi faremo poi vedere e conoscere più avanti. Questo è il palcoscenico dove su questo castello, Castello di Locuro, si svolgono svariate attività artistiche durante i mesi estivi, ma non solo. Ci toro, ci toro, ci toro giaro di pittà. Il nostro canale è www.mesmerism.info 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 l'epoca Grazie a tutti 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 Grazie a tutti